Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua è la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Beh, in questa trasmissione naturalmente continueremo il discorso sulla volontà. Un discorso sulla volontà che non è molto diverso, cioè non sposta moltissimo dalla prima trasmissione che abbiamo fatto sul mito. Perché questo? Intanto il discorso sulla volontà appartiene a un discorso che è strettamente pagano, è un discorso di azione, di movimento, di intelligenza, della capacità dei soggetti di manifestare se stessi nel mondo. E chiaramente è un discorso assolutamente antagonista a quello che è il discorso della forma, il discorso dei numeri, il discorso della quantità e naturalmente con il discorso dei numeri e il discorso della quantità c'è anche il discorso della trascendenza. Perché se la ragione è folle al punto tale da voler numerare tutti gli oggetti del mondo, la loro forma, la loro quantità, è chiaro che nella sua follia può partorire anche ciò che è ancora più folle di lei e ciò che sta esterno a lei, ciò che da lei viene trasceso, ciò che è fuori dalla sua comprensione numerica con cui giustificare le sue incapacità. Per cui, chiaramente, riportando i soggetti all'azione, riportando i soggetti alla loro capacità operativa all'interno del mondo, alla loro rappresentazione come dei, in un mondo di dei, i discorsi sono similari e continuativi in maniera sistematica. La volontà, la rappresentazione del soggetto, dell'uomo nel mondo, è uno degli aspetti più squisitamente pagani politeisti che esistono. D'altronde, se noi diciamo che una divinità del paganesimo è Ercole, Ercole è tale non tanto per condizioni particolari della sua esistenza, ma è tale perché affronta le prove della sua esistenza, delle prove della sua vita. Affronta, eroicamente, quelli che sono gli ostacoli che Ercole pone sulla sua esistenza, sul suo cammino, per diventare un dio, per entrare nell'Olimpo. Chiaramente, se oggi parliamo di Ercole, parliamo di Ercole soltanto perché Ercole ha affrontato quelle fatiche. E tutti gli Ercole che noi onoriamo, tutte le persone che noi consideriamo degli eroi, sono dei soggetti che hanno affrontato quelle fatiche. Come diceva Nerone in un film comico, ma solo fino a un certo punto, fatto con Pippo Franco, ancora negli anni Sessanta, è nato, diceva, è nato prima l'uovo o la gallina? E poneva la domanda al governo riunito. E qualcuno ha detto, prima la gallina? No, dice Nerone, è nato prima l'uovo, cioè io, Nerone. Perché se io, Nerone, non fossi nato, a nessuno gli sarebbe mai venuto in mente di sapere come si chiamava Erfio di Agrippina. Per cui prima è nato Nerone. E poi tutti quanti si chiedono, chi è la madre di Nerone? Pertanto, se noi oggi possiamo considerare dei soggetti importanti, e su cui soggetti andare a ricercare delle storie, è perché quei soggetti sono andati ad affrontare le loro condizioni della vita, hanno posto delle cose importanti per l'esistenza, per la nostra esistenza, cioè hanno avuto un comportamento eroico affrontando le contraddizioni della loro esistenza. Ma un comportamento eroico non è basato sulla forma, non è il figlio del Dio padrone, per cui anche lui padrone, come afferma il patto di Nazareth, quel povero deficiente mentecato. Ma fa delle azioni eroiche. Quelle azioni eroiche lo qualificano? Vogliamo giustificare quelle azioni eroiche? Benissimo. Se l'hanno inventate i romani, sta cosa, Scipione l'Africano fu talmente eroico a distruggere Cartagine, che sicuramente doveva essere figlio di un Dio. E la madre di Scipione l'Africano dichiarò che lei fu messa incinta dal figlio con una grande luce che l'avvolse. Non so se vi ricorda qualcosa sull'annunciazione, seghe mentali del genere fatte dai cattolici. I romani si erano già inventati prima a sta cosa. E giustificavano la capacità eroica della persona, non soltanto perché la persona non dovesse affrontare i problemi, ma perché sicuramente c'era qualcosa alla base. Ma il qualcosa alla base era un'invenzione a posteriori, non a priori, come hanno fatto i cristiani. Scipione l'Africano fu fondamentale per Roma, fu uno degli artefici importanti per la distruzione di Cartagine. E d'altronde Roma e Cartagine si contendevano il predomino del Mediterraneo, o l'una o l'altra, o Annibale o Scipione. E fu Scipione a prevalere e Roma a prevalse. Per cui il comportamento di Scipione era un comportamento eroico. E la madre di Scipione dichiarò che il suo figlio fu nato quando lei fu avvolta da una luce di un Dio. L'immacolata concezione sono sei che i cristiani hanno scoppiazzato dal mito antico. Allora, prendendoci un attimino quello che è il discorso sulla volontà, all'interno del dibattito c'è un appunto. E c'è un appunto, c'è la ragione a paura della morte. E questo ci fa comprendere anche in buona parte il cristianesimo. Cioè, quel terrore che il cristianesimo ha giocato come paura della morte. In fondo, il cristianesimo è manifestazione della fetenzia, delle cose più sporche, più squallide, che ha la ragione. È la manifestazione delle sue paure, delle sue paranoie, delle sue fobie. Il cristianesimo è malattia, la malattia della ragione. Ebbene, la ragione a paura della morte, figuriamoci, la malattia della ragione. La malattia della ragione è proprio la manifestazione del terrore puro, dell'ansia, della distruzione dei soggetti. Bene, affrontiamo un attimino questo piccolo paragrafo. La ragione a paura della morte. La cosa che maggiormente teme la ragione è la morte del corpo fisico. Questa paura viene trasmessa dalla ragione all'intero individuo. Perché la ragione a paura della morte? Perché con la morte del corpo fisico muore anche la ragione. Il territorio che Zeus ha costruito per i suoi figli è destinato a cessare di esistere. I figli dell'essere natura costruiscono le loro sfide all'interno del terreno della forma. Solo che le sfide che mettono in essere nel terreno della forma plasmano il loro corpo luminoso. Il corpo luminoso percepisce il mondo in maniera diversa dal corpo fisico. Anche se a mano a mano che cresce tende ad usare i sensi di cui si serve anche il corpo fisico. Quella che noi chiamiamo ragione come esseri umani è una frazione di tutte le ragioni che sono proprie degli esseri della natura. Tutti gli esseri della natura percepiscono il mondo come forma. Pochissimi lo definiscono come gli esseri umani. Pochissime ragioni instaurano una dittatura assoluta sull'essere di cui sono espressione. Poche ragioni fra gli esseri della natura temono la morte del corpo fisico. Almeno non come quella degli esseri umani che ha la consapevolezza di aver distrutto la possibilità di trasformazione dell'individuo di cui si è proclamata padrone. Da un lato abbiamo la volontà che spinge l'individuo attraverso le sue pulsioni a manipolare la propria struttura emozionale e dall'altra la ragione che tenta di impedirlo per impedire di essere modificata. Solo che la modificazione della struttura emozionale attraverso le pulsioni portano a manipolare e costruire il nostro corpo di energia mentre il principio di realtà che la ragione impone alle pulsioni altro non è che la ferrea gabbia delle limitazioni educazionalmente imposte al fine di non costruire il corpo luminoso al fine di non percepire il mondo in maniera diversa. Alla morte del corpo fisico si produce la resa dei conti la propria struttura emozionale è l'unica che è in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso mentre la ragione muore. Il terrore per la manifestazione delle pulsioni soggettive viene instillato nelle persone in quanto questo sistema sociale in cui viviamo non è in grado di volgere a proprio vantaggio tale espressione deve costringere le persone ad obbedire a degli schemi oggettivamente imposti ne consegue che tutta la struttura pulsionale e soggettiva viene falsata da queste costruzioni e la sua manifestazione senza disciplina risulterebbe autodistruttiva. Riuscire a mediare fra manifestazione la propria struttura emozionale e struttura sociale è arte della stragonaria infatti significa organizzarsi soggettivamente affinché volontà si esprima nel regno della ragione costringendo questa ad espandersi e modificarsi senza che perda il controllo delle relazioni tra il singolo individuo di cui è espressione e il sistema sociale in cui opera la ragione dunque muore col corpo fisico la ragione è il modo con cui gli esseri della natura affrontano la loro esistenza noi siamo abituati come esseri umani a considerare una sola struttura della ragione la ragione la ragione come metodo per relazionarsi fra esseri solo che in stragonaria riconosciamo l'esistenza di molte ragioni attenzione non fraintendetemi cioè esistono molte forme di ragioni noi conosciamo la ragione degli esseri umani che è la ragione data dal parlato dai numeri e dalla quantità e dalla forma attenzione però la costruzione dei numeri della quantità della forma che noi diamo è data da un uso peculiare che noi facciamo dei cinque sensi i nostri cinque sensi all'interno di questo mondo ci costruiscono un mondo di forma un mondo di oggetti un mondo nel quale noi ci relazioniamo e costruiamo le nostre strategie per contro i soggetti gli individui gli animali o le piante che si relazionano col mondo con una struttura sensoria con sensi diversi per fare un esempio fra gli esseri animali possiamo dire le vibrisse del topo per esempio oppure alcune capacità di sentire delle piante e non vi dico attraverso cosa perché neanch'io lo so io so che sentono ma non lo so aspetterò la scienza che le individua questi sensori delle piante so semplicemente che le piante usano tutta una serie di sistemi di comunicazione che la scienza ha rilevato sapevamo sempre che le piante parlavano però la scienza ci ha detto e sai forse tutti questi odori questa variabile questa gamma questa modulazione di profumi di essenze messe nell'aria usate nel vento forse chissà potrebbe anche essere un linguaggio in effetti dice la scienza abbiamo visto che potrebbe proprio essere un linguaggio si dice la scienza ma potrebbe essere un linguaggio poi ti arriva un imbecille un imbecille che fa bisogna salvare una specie di antilopi cosa facciamo allora questi antilopi si mangiano gli eucalipti allora noi circondiamo una zona dell'Africa Sudafrica con un bel sfilo spinato belle recinzioni tanto in quella zona ci sono molti eucalipti e ci mettiamo le antilopi ci mettiamo le antilopi perché mangiando gli eucalipti possono vivere e siccome il nostro sfilo spinato tiene lontani i predatori e queste antilopi riusciranno a sopravvivere a fare figli e a prolificarsi passa un mese passa due mesi tutte le antilopi morte quelle non morte sono stremate e allora questi si grattano un pochino la testa e dico ma com'è possibile era tutto logico era tutto perfetto le antilopi mangiano gli eucalipti gli eucalipti sono dentro il nostro territorio non ci sono predatori non ci sono leoni che si mangiano le antilopi e le antilopi muoiono e muoiono di fame questa è la cosa più atroce eppure hanno mangiato gli eucalipti poi qualcun altro si gratta la testa va a fare un po' di analisi degli eucalipti e trova che la quantità di tanino all'interno delle foglie di eucalipto era un livello talmente alto talmente alto da risultare indigeribile da parte delle antilopi queste poveracce se ne stavano nel recinto protetto dei leoni ma gli eucalipti quando si sono trovati l'assalto di queste che si mangiavano le foglie si sono passati la voce hanno aumentato la quantità di tanino all'interno delle foglie e sono risultati immangiabili se non c'era il recinto le antilopi sarebbero andate da un'altra parte avrebbero camminato avrebbero trovato altre fonti di cibo e altri modi di mangiare ma gli uomini cosa hanno pensato cavoli che furbi che siamo noi abbiamo salvato le antilopi in realtà le hanno praticamente ammazzate perché perché gli eucalipti parlano e quando un eucalipto viene l'eucalipto comunque lungo la trafianta viene aggredito in maniera devastante lancia l'allarme a tutte le piante attorno e tutte le piante attorno avevano aumentato la dose la quantità di tanino nelle foglie al punto tale da essere immangiabili allora noi conosciamo una ragione la ragione umana la ragione umana ne possiamo parlare ne possiamo discutere possiamo essere d'accordo non essere d'accordo l'interloco e la ragione umana ma esistono ragioni quante sono le specie e quante sono gli esseri e le capacità di percezione degli esseri nella natura perché tutti i figli di Zeus tutti i figli di Hera hanno una peculiarità quella di vivere nel mondo come forma poi come loro soggettivamente si sono adattati a percepire il mondo come forma e in questa forma hanno costruito le loro strategie di vita è un altro discorso però tutti gli esseri percepiscono il mondo come forma noi sappiamo che nel sangue di mammiferi c'è una prevalenza di ferro e il sangue di mammiferi è rosso sappiamo che il sangue invece del polipo è blu o ha una prevalenza di blu perché nel sangue di polipo c'è una prevalenza di rame però a noi ci interessa poco questa cosa noi sappiamo che il polipo ha messo in atto le strategie di vita perché ha un certo modo di percepire il mondo e ha adattato la sua struttura fisiologica in quel modo per percepire il mondo per cui per il polipo il mondo ha una forma ha una rappresentazione che è diversa dalla rappresentazione che ne ha un essere umano che è diversa dalla rappresentazione che può averne uno scorpione del deserto o che ne ha una talpa oppure che ne ha un albero ma sono tutte forme cioè in realtà sono tutte forme della ragione cioè forme date dai sensi come si sono organizzate perché se è vero che io non sono molto d'accordo nell'uso del termine archetipo che ne fa mio amico qua compagno Francesco oppure che ne fa Jung o che ne fanno altri personaggi però è altrettanto vero che la natura ha una strategia molto particolare nella costruzione degli esseri cioè dato un sistema che funziona sia esso fisico sia emozionale sia psichico a questo sistema diventa stabile lei sovrappone sistematicamente altri sistemi per cui effettivamente esiste alla base di tutti i nostri meccanismi fisici psichici mentali emozionali uno uso del termine fra virgolette per chiamarli fuori modello archetipo un modello archetipo che si riproduce che diventa un modello archetipo più vicino a noi e un modello archetipo molto più lontano di noi per cui un modello archetipo più vicino a noi noi siamo più sensibili a quel modello mentre invece un modello archetipo molto più lontano di noi siamo meno sensibili a quel modello archetipo ma comunque effettivamente la natura agisce per stratificazioni pertanto noi siamo comunque dei figli di era e ciò che noi ci trasforma nel mondo della forma è la nostra capacità di agire nel mondo della forma sono le nostre strategie sono i nostri modi di agire nella nostra vita chiaramente il mondo della forma è un mondo assolutamente illusorio è illusorio per noi è illusorio per il virus è illusorio per il battere per il polpo per l'albero perché? perché il mondo non è ciò che è o ciò che noi vogliamo che esso sia ma il mondo è ciò che è e il mondo che è ciò che è viene rivisitato dalle persone viene immaginato dalle persone viene descritto dalle persone e in quel mondo le persone le persone gli esseri gli individui i soggetti costruiscono le loro strategie io posso costruire le mie strategie perché in questo modo immagino il mondo ma se io lavoro di immaginazione posso pensare un infinito numero di strategie diverse ora la mia immaginazione è relativa perché è una proiezione di ciò che io sono sul mondo cioè io sono in un certo modo in quel modo affronto il mondo giocando di immaginazione costruisco altre forme del mondo diverse ma sono sempre comunque una mia proiezione in ogni caso il mondo non è ciò che io voglio che sia o ciò che io racconto che sia ma il mondo è ciò che è in quanto è però dal momento che io sono ciò che sono nella mia testa il mondo si rappresenta in questo modo e solo in questo modo quando la rappresentazione del mondo diventa stabile io posso costruire delle strategie di vita nel tempo e la titanomachia fatto da Zeus contro i titani aveva questo scopo aveva lo scopo di costruire il mondo della forma il mondo dei numeri il mondo della rappresentazione perché solo in quel modo i figli di Zeus i figli degli dei olimpi avrebbero potuto costruire le loro strategie di esistenza e costruire i loro cammini nell'infinito non poteva essere che nascessero dei figli di Zeus come oggi noi li pensiamo essere della natura senza che Zeus combattesse la titanomachia saremmo stati figli di Cronos saremmo stati figli di Ceo saremmo stati figli di Teti o di Oceano saremmo stati figli di Febo no di Febo mi ricordo anche più adesso alcuni nomi di titani saremmo stati figli di altri dei saremmo stati fratelli di Atlante di Prometeo di Menezio ma non saremmo esseri della natura torniamo con il discorso del mito fatto oggi noi al mito non dobbiamo semplicemente leggere le fiabe che ci racconta il mito ma nel mito è descritto puntualmente ciò che è stata la trasformazione della vita e la trasformazione delle specie e adesso con grande dolore del mio amico Franco metterò su una bella musica per qualche minuto perché ho un problemino che devo risolvere allora abbiate pazienza qualche secondo vi metto su un cd due minuti e poi riprendiamo il nostro discorso eccomi qua non vi preoccupate succede quando si passano le notti in fonderia di avere le necessità urgenti riprendiamo un attimino il nostro discorso sulla volontà e ricordiamo come i due dibattiti precedenti i due dibattiti fatti volontà compresa praticamente rappresentano i due elementi fondamentali da cui nasce il paganesimo di cui nasce la stragoneria sulle determinazioni e al riconoscimento che noi siamo dei soggetti che agiscono nel mondo per cui noi siamo dei e quando dico noi siamo dei non vi dico cosa abbiamo dentro e nello stesso tempo il secondo dibattito il dibattito sulla volontà è il tentativo fatto da parte mia piccolo e squali da tutto sommato con i miei mezzi di tentare di farvi capire che il mondo non è solo forma naturalmente faccio quello che posso sicuramente gente che ha una preparazione culturale più grossa della mia potrebbe fare meglio solo che loro non lo fanno io lo faccio io pratico stragoneria e loro no questa è la piccola differenza andiamo avanti allora due modi di vivere entrare nei mondi della percezione vivendo in essi per sfida o vivere per sfida nel quotidiano possono distruggere l'individuo non attrezzato il credente cattolico ad esempio oppure forgiano e preparano l'individuo a percepire il mondo a percepire il mondo stragoni sono in quanto agiscono mondi in cui si rappresenta come oggetto l'agire le decisioni dell'agire che si vediamo un attimo no eh qui è saltata una pagina bella e buona e spicciata eccola qua allora due modi di vivere entrare nei mondi della percezione vivendo in essi per sfida o vivere per sfida nel quotidiano possono distruggere l'individuo non attrezzato il credente cattolico ad esempio oppure forgiano e preparano l'individuo a percepire il mondo attraverso la volontà manifestata dal mondo come viene bloccata la capacità degli individui di vivere attraverso l'azione i blocchi si manifestano nel momento della decisione abulia e ipobulia cioè mancanza di coraggio allora a questo punto noi affrontiamo un altro aspetto cioè affrontiamo l'aspetto che è legato alla ragione e non ci chiediamo più la differenza fra il mondo d'azione e il mondo della forma e dei numeri ma ci chiediamo il nostro rapporto il nostro modo di vivere nel mondo d'accordo io nasco nel mondo della forma perfetto nasco nel mondo della ragione i miei occhi e i miei sensi dico i miei occhi perché vanno a recepire la nostra specie praticamente sintetizza i propri sensi sugli occhi occhi tatto l'odorato un po' meno l'udito un po' meno cioè noi abbiamo i cinque sensi fondamentali però di questi cinque sensi abbiamo la vista che riassume un po' tutto non è proprio vero al cento per cento perché la vista e il tatto praticamente rappresentano la nostra parte essenziale comunque ne parleremo probabilmente di un altro momento però a questo punto io mi chiedo no perché pur vivendo nel mondo della ragione e ne prendo atto che vivo nel mondo della forma e dei numeri non vengo educato comunque a vivere per sfida cioè a vivere per rappresentare me stesso perfetto riconosco che il leone non è non ha le ali il leone ha dei denti a guzzi va a caccia di gazzelle e se può si mangia anche a me perfetto lo riconosco questo ormai ne ho preso l'atto perché quella forma l'ho vista rappresentata varie volte però dato questo cioè dato l'esistenza di questi elementi perché io non vivo da cacciatore cioè non vivo da persona che rappresenta se stessa nella vita d'accordo la possessa anche mangiata però perché non vengo educato o meglio più che vengo educato non vado ad affrontare in maniera positiva in maniera propositiva la mia esistenza e i blocchi si manifestano nel momento della decisione cioè nel momento in cui io decido di affrontare con volontà e con passione la mia esistenza e sono blocchi di abolia e ipobulia cioè mancanza di coraggio in realtà la coercizione educazionale a cui io sono sottoposto da piccolo ha agito più a monte costruendo l'incapacità di un soggetto di riconoscere le proprie tensioni i propri bisogni scegliere l'obiettivo e gli strumenti con i quali perseguirlo cioè praticamente si è agito a monte della mia esistenza a monte dell'esistenza umana e questo agire a monte ci impedisce di riconoscere quali sono gli obiettivi in base alle nostre tensioni in base ai nostri progetti l'individuo viene reso incapace a farsi un dio a farsi dio viene reso incapace di agire nella propria oggettività viene reso incapace di riconoscere se stesso il mondo e le relazioni che intercorrono l'individuo non è in grado di intuire le trasformazioni che la sua azione comporta la paura delle trasformazioni e delle relazioni lo bloccano noi come esseri umani siamo educazionalmente preparati a descrivere oggetti che mettono in essere azioni che riusciamo a descrivere non possiamo fare diversamente però le azioni manifestano determinandolo l'essere che le attua trasformandolo le azioni producono l'individuo le azioni ci costruiscono al di là che noi siamo in grado di individuare il NUS cioè l'intelligenza nel soggetto che le azioni manifesta prendiamo atto che la ragione ci dice che le azioni non sono oggetti in se stessi prendiamo atto che la ragione ci dice che le azioni sono manifestazione dei soggetti ne prendiamo atto allora perché noi non siamo dei soggetti che manifestano delle azioni perché pur sapendo che le azioni producono l'individuo che le azioni ci costruiscono al di là di come noi siamo in grado di individuare la nostra intelligenza non siamo in grado di manifestare delle azioni la stregoneria tratta l'agire in quanto l'agire è trasformazione se in pratica la stregoneria sa che l'azione è oggetto in se stesso però gli stregoni non sono talmente matti di andarlo a raccontare in giro a parte me per radio ma io sono un po' un'eccezione da questo punto di vista e allora gli stregoni trattano dell'agire la stregoneria tratta dell'agire sulle condizioni che determinano l'agire in quanto questo induce alla trasformazione allora ripeto un attimino questo concetto che dopo lo tratto la stregoneria tratta dell'agire sulle condizioni che determinano l'agire in quanto questo produce induce alla trasformazione noi abbiamo la zecca la zecca se sta su un albero aspetta pazientemente che una mucca gli passi sotto mucca oppure un soggetto a sangue caldo poi lei si stacca dall'albero si stacca dalla pianta in cui è si poggia sul soggetto e comincia a succhiare il sangue riflesso condizionato azione riflessiva per la scienza non c'è intelligenza non c'è progetto non c'è scopo semplicemente lei era la la è passato un soggetto che gli andava bene a sangue caldo lei la gli si è attaccata lei la ha cominciato a succhiare e a riprodursi diciamo alla follia pura milioni e milioni di anni di trasformazione di uso dell'intelligenza trasformato dal potere scientifico in un riflesso condizionato magari lo stesso potere scientifico potrebbe dire oh arriva un leone in mezzo a dieci uomini disarmati i dieci uomini scappano riflesso condizionato appare il leone gli uomini scappano dov'è l'intelligenza degli uomini è un riflesso condizionato beh mettete la vostra intelligenza nelle vostre gambe che in quel momento vi serve la stregoneria tratta la volontà come oggetto nella sua manifestazione in molti mondi della percezione la sostanza dei soggetti è data dalle azioni che questi sanno attuare mondi in cui si rappresenta l'equilibrio reciproco di azioni che appaiono come oggetti mondi di azione come soggetti in cui dei e stragoni sono in quanto agiscono quando io vi dico per radio guardate che il macellaio di Sodoma e Gomorra che va farneticando di avere creato il mondo non esiste sto buttando là un po' come una battuta e come affermazione apodittica però in realtà io sono stato nei mondi in cui le azioni sono oggetti e in quei mondi i soggetti esistono soltanto se sono in grado di mettere in essere delle azioni pertanto quando dico che il macellaio di Sodoma e Gomorra non ha mai creato il mondo è perché l'azione creatrice sarebbe un'azione sostanziale cioè un'azione che si rappresenta come sostanza nei mondi del tempo nei mondi della volontà e in quei mondi io vi assicuro io ci sono stato non esiste nessuna azione creatrice pertanto è un'invenzione un'invenzione squallida sporca infame vigliaca fatta dai cristiani fatta dai monoteisti che affermano che il mondo è stato creato io so che il termine creazione veniva usato anticamente anche prima dei monoteisti ma aveva significazioni diverse io creo mio figlio non è che io lo creo come viene inteso oggi ma metto in essere delle azioni per le quali mio figlio nasce per cui il termine creare acquista una valenza un significato diverso di come faceva come prima derivo del monoteismo e assume un significato diverso dopo del monoteismo che si inventa la creazione ex nihilo la creazione dal nulla che si inventa tutte quelle panzane ma noi sappiamo chi pratica straconaria sa che non esiste nessuna creazione cioè non esiste nessuna volontà creatrice perché nei mondi della volontà questo atto sarebbe sostanza e si rappresenterebbe come oggetto non esiste allora dal momento che però quello che io ho visto nei mondi della volontà nei mondi del tempo è una mia visione soggettiva e io non posso dire alle persone guardate vi dimostro che non esiste il macellai Sodoma Gomorra non esiste quel cretino deficiente del pazzo di Nader non esiste nessuna attività creatrice è solo una panzana pura e semplice non posso prendere passione a dimostrare questo devo necessariamente invertire l'ordine dei fattori siccome viaggiando nei mondi del tempo nei mondi della volontà ho acquisito una sicurezza di questo nel mondo della ragione posso soltanto rappresentarlo negativamente cioè rappresentare questa proposizione quello che io ho visto in maniera funzionale nel mondo della ragione se io nego un oggetto che mi rientra sotto i sensi dico il dio dei cristiani non esiste non esiste perché il dio dei cristiani non rientra nei miei sensi dico io no lo dico nel mondo della ragione i cristiani dicono il dio dei cristiani è trascendente al mondo della ragione è al di là del mondo della ragione è al di là di ogni immanenza benissimo dico io siccome io ho la certezza che il dio dei cristiani non esiste al di là di ogni immanenza non esiste in un mondo trascendente a ciò che ci circonda chiedo ai cristiani di dimostrare la sua esistenza cioè sono i cristiani che devono dimostrare l'esistenza del loro pazzo cretino assassino dio e non io che la nego questa è la logica del mondo della ragione d'altronde io posso sostenere questa logica senza il minimo dubbio perché essendo stato nei mondi della bontà essendo stato nei mondi del tempo ho verificato che quella dei cristiani è una panzana infame squalida e sporca e allora posso chiedere ai cristiani di dimostrare quanto dicono e se i cristiani non dimostrano quanto dicono quanto affermano è solo una panzana squalida sporca una truffa che andrebbe perseguita a norma di legge se i magistrati non fossero dei vigliacchi dei codardi degli assassini dovrebbero perseguire i cristiani lo so che esiste il concordato ma come vanno fuori dalla legione cristiana dovrebbero perseguire la norma di legge i magistrati sono dei codardi questo è il risultato finale di tutto il ragionamento poi magari con i magistrati ci farò un discorso a parte visto che stanno facendo un po' i provocatori dunque mondi in cui si rappresenta come oggetto l'agire e le decisioni dell'agire che si manifestano nel quotidiano della ragione ci fu un tempo in cui le azioni davano il nome agli oggetti nel nostro caso gli dèi specialmente a Roma Antica Angerona il potere attraverso il quale si esce dal silenzio Bellona il potere attraverso il quale si esce dalla guerra Cerere il potere della crescita venere il potere della venerazione dopo di che la descrizione sia propria dell'azione descrive un oggetto che ne simbolizza l'azione il simbolo assume forma oggettiva gli uomini dimenticano l'azione che ha fondato l'oggetto e il verbo che ne indica l'azione diventa un nome gli uomini ricordano il nome sostantivo dimenticano l'azione che lo ha generato e non sono più in grado di riconoscere la manifestazione di quell'azione negli oggetti del mondo quel nome quella descrizione si cala nell'individuo che proietta su quella forma la sua immaginazione così a quel nome corrisponde una forma e non un agire la staticità della forma prende il sopravvento nel controllo dell'attenzione del soggetto sull'azione di cui l'oggetto è il simbolo così quel potere universale che attraversa ogni esistente qual è cerere diventa il dio delle messi quella tensione dell'esistenza che è bellona diventa una specie di furia della guerra il potere della relazione fra gli oggetti del mondo quale venere diventa una dea della bellezza il mondo degli oggetti esiste in questo modo nella nostra mente perché noi lo raffiguriamo in questo modo perché abbiamo i sensi che lo percepiscono in questo modo perché abbiamo organizzato i nostri sensi a percepirlo in questo modo perché la nostra specie è organizzato dei sistemi sociali che prevedono che l'essere umano percepisca il mondo in questo modo e attraverso questo organizzi se stesso all'interno del sistema sociale vogliamo invertire un attimino tutto quello che abbiamo detto? allora il sistema sociale impone agli esseri umani di organizzarsi in questo modo i sistemi sociali prevedono che la specie si organizza in questo modo la specie ci induce ad organizzare i sensi in questo modo organizziamo e abbiamo i sensi che percepiscono il mondo in questo modo il mondo degli oggetti esiste in questo modo nella nostra mente perché noi lo raffiguriamo in questo modo quello che Castaneda parlava il punto di allineamento di una specie è definito in queste parole in pratica come noi nasciamo il sistema sociale ci impone di percepire il mondo in quel modo ci costringe attraverso i genitori a percepire il mondo in quel modo ma d'altronde la nostra specie ci ha dato una banda all'interno della quale noi percepiamo il mondo in quel modo e quella banda è delimitata da due barre per cui sia che uno sia un cinese sia che sia un ugandese un italiano uno svizzero arriva sempre a percepire il mondo all'interno di quella banda che varierà culturalmente un po' di qua un po' di là perché il sistema sociale spinge un po' da una parte o spinge un po' dall'altra però ci riconosciamo tutti esseri umani perché percepiamo il mondo in quel modo allora per il mondo della volontà io mi fermo qui mi faccio un piccolo appunto per la prossima volta oggi ne abbiamo siamo arrivati qui lo 0 3 0 2 0 5 eccolo qua e continueremo il prossimo pomeriggio la prossima sera giovedì prossimo vi ricordo che io non ci sarò ci sarà Francesco da solo non so quali ospiti si porterà e dopo la volta dopo fra 15 giorni ci sarò io purtroppo dobbiamo un po' risparmiarci le ferie visto le condizioni mancano 10 minuti ne approfitto per fare un po' di di annunci sui nostri ritrovi i prossimi ritrovi che ci troviamo avete sentito nella prima trasmissione che ha telefonato Armando Armando è un amico che partecipa alle cene del musso e ci ha detto che da qualche giorno è uscito il sesto volume della storia criminale del cristianesimo di Dresner edizione Arielli e io non l'ho visto ho sentito l'annuncio nella prima trasmissione che mi ha annunciato Armando ricordo però che il quinto volume si fermava a Carlo Magno Carlo Magno siamo 800 siamo il capitolato sassone siamo la strage e siamo la nascita della stragonaria vi ricordo che l'800 quando Carlo Magno taglia la testa a 4500 pagani sassoni viene considerata la data di inizio della stragonaria all'inizio del mio percorso di stragonaria tantissimi anni fa ho fatto un piccolo scritto uno scritto che nessuno ha mai letto e che non è mai stato presentato allora mi ero accorto che stavamo nascendo proprio da teste tagliate e avevo paura non sapevo dove collocarlo ci ho messo 8-9 anni per riuscire a capire la data esatta della collocazione si trattava di 4500 pagani sassoni le cui teste furono mozzate ebbene il sesto volume di storia criminale del cristianesimo sicuramente andrà come minimo a ridosso delle crociate non credo che affronti le crociate ma ci andrà a ridosso ed è secondo me un'epoca molto importante molto importante perché è l'epoca delle eresie ed è l'epoca in cui la chiesa cattolica e i cristiani devono riaffermare il proprio potere io invito tutti quelli che hanno possibilità ad andare dal loro libraio e ordinare il sesto volume di storia criminale del cristianesimo edizioni ariele perché? perché è una grande impresa editoriale noi noi non avremmo per molto tempo mai più in Italia un testo così importante torno a ripetere è un testo anticlericale non è un testo pagano però la quantità di dati che riesce a dare Dreschner nel scrivere in quel testo può essere utilizzata da tante persone dal mio punto di vista visto che io ho una memoria storica di tanti anni passati secondo me il testo di storia criminale del cristianesimo ha lo stesso impatto che ha avuto in Italia sto parlando dell'epoca italiana di tanti anni fa che ebbe un altro testo che oggi è dimenticato era lo scrittore del Carria e si intitolava Proletari senza rivoluzione quel testo quel libro scritto negli anni 70 un testo fondamentale della sinistra ormai non se lo ricorda neanche più nessuno credo che se lo siano contati sulla punta delle dita eppure secondo me andava andava capito quel libro andava capito al di là che si voleva dargli un senso di verità o meno perché ricordate che quando qualcuno urla a boie a boie ti arei che ava parsore bisognerebbe rifletterci perché c'è qualcosa che non va bene nel sistema sociale in cui stiamo vivendo e forse quando mancano le voci di chi urla a boie a boie forse manca qualcosa in questo sistema c'è qualcosa che sta morendo e quando muore l'anima di un sistema sociale non sappiamo quale mondo nero stia arrivando dopo di che vi ricordo i nostri appuntamenti ed è il 26 febbraio 2005 qui in sede della radio gamma 5 alle ore 20 e 30 tratteremo il dibattito sul crogiore dello stregone entraremo nel mondo della vita sociale e tratteremo del toglierci dal centro del mondo toglierci dal centro del mondo che è il primo elemento fondamentale con cui noi possiamo affrontare la società in cui viviamo io ho un'esperienza personale molto personale legata al mio posto di lavoro io ho visto una persona che pensava se stessa onnipotente pensava se stessa potente nella ristrutturazione aziendale è stata messa alla porta fa sempre dispiacere quando le persone vengono messe alla porta però fa ancora più dispiacere quando una persona si pensa onnipotente e si sente schiacciata tanto più ti senti forte tanto più ti senti un eletto e tanto più in basso cadrai e tanto più difficili sono le strategie per organizzare la tua esistenza bene appuntamento allora per il 26 febbraio qui a Radio Gamma 5 alle ore 20 e 30 e parleremo del togliersi dal centro del mondo dopodiché il 19 marzo presso il bosco sacro di Jesolo terremo invece il rito del equinozio di primavera a proposito del rito dell'equinozio primavera scrive Laura Rangoni nel suo nel suo paganesimo che è appena uscito dell'edizione Xenia allora dice che la federazione pagana come religione e dunque allora della federazione pagana dice la federazione pagana è nata ufficialmente come associazione a fine del 2002 anche se il gruppo fondatore operava già informalmente da due decenni si propone la federazione pagana lo scopo di organizzare strutturare la religiosità del paganesimo del politeismo e della stregoneria e più in generale di tutte le religioni non monoteistiche e dichiara con il deposito dello statuto di aver sancito la nascita ufficiale della federazione pagana come religione all'interno dello stato italiano è estremamente attiva siamo estremamente attivi grazie Laura nella pubblicazione di materiale reperibile via internet e la presenza dei suoi rappresentanti del mailing list a carattere pagano è costante ha avviato una serie di iniziative istituzionali volte al riconoscimento di un luogo di culto in prossimità di Esolo e le sue attività come la celebrazione dei sostizi e la presenza del pontefice dell'associazione Claudio Simeoni trovano sempre qualche riscontro nei giornali locali la federazione pagana cura inoltre una trasmissione radiofonica su un emittente locale che sarebbe questa però non ha scritto Radio Gamma 5 sta bastarda tuttavia malgrado il clamore suscitato al primo congresso di Marostica il 2003 dove è avvenuta l'elezione del pontefice e la consacrazione del bosco sacro erano presenti e qua metto puntini e puntini perché c'è certa gente che non ha ancora capito la differenza che c'è fra essere simpatizzanti fra partecipare ad iniziative fra amare le cose e assumersi responsabilità giuridiche nel fare le cose purtroppo è una cosa che non viene compresa molto facilmente dalle persone è un dato di fatto e ci dobbiamo aggregari bene 049-600-700 049-600-838 non c'è tempo per le telefonate se qualcuno telefona li butto giù pronto scusa Gian Paolo ciao Gian Paolo ciao io ti dico una sola cosa in sintesi e se a capo di tutto ci fosse la materia ma la materia è energia l'energia è materia che differenza c'è niente mi hai cioè mi sono spiegato male se tu mi hai captato al giuro cioè se il cosiddetto spirito fosse contenuto dalla materia e che fosse la materia c'è nessuna differenza perché l'uno e l'altro sono la stessa cosa noi li percepiamo in maniera diversa ma noi siamo figli di Zeus mica siamo titani sono col sapere di non sapere e con questo mi chiudo però abbraccio il tuo pensiero ok ciao 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 torno a ripetere butto giù la prossima telefonata vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo giovedì prossimo troverete l'amico Francesco mentre invece il prossimo il giovedì fra 15 giorni ci sarò ancora io allora ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo a giovedì prossimo e a giovedì prossimo